Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Kate Middleton è tornata a casa dopo aver trascorso del tempo con la sua famiglia e i suoi figli durante il periodo di convalescenza. Durante questo periodo, è stata assistita da infermieri e ha ricevuto il sostegno dei suoi genitori e fratelli. La sua salute è stata oggetto di molte speculazioni, sia da parte di esperti che di giornalisti, a causa di un'operazione e della sua patologia. La decisione di mantenere il riservo è stata presa dalla stessa principessa dei Galles per proteggere se stessa e i suoi figli. Questa scelta ha alimentato numerose ipotesi. Con la giornalista spagnola Conque Calleja che ha dichiarato che la futura regina era stata intubata e sottoposta a un coma farmacologico. Tuttavia, queste affermazioni sono state successivamente smentite da un portavoce della coppia reale e dal dottor Luigi Boni, direttore di chirurgia generale e mininvasiva del Policlinico di Milano. Secondo quanto riportato dal The Times il primo febbraio scorso, la smentita è giunta in risposta alle speculazioni sulla salute di Kay Middleton, confermando che è stata effettivamente intubata.